Marco Terranova, prego consigliere, per tre minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente. Sulla falsa riga di quanto è avvenuto e valutato relativamente all'ordine del giorno numero 28 che la maggioranza ha deciso di votare positivamente, volevo comunicare che da una consultazione del gruppo del Movimento 5 Stelle, quindi del gruppo di maggioranza, intendiamo seguire la stessa strada per gli ordini del giorno dal numero 29 al numero 35, perché di fatto afferenti alla medesima materia e quindi sicuramente unificabili in un'unica valutazione in termini di accettazione. Quindi ai colleghi proponenti dichiariamo senza necessità di replica sugli altri ordini del giorno che voteremo favorevolmente gli ordini del giorno appena citati. Grazie.